Invincibili guerrieri, valenti condottieri, votati anime e corpo a Lady Isabel, per divertare santi, per esser cavalieri, al sostenuto prove, dirà la crudeltà, ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà l'armatura d'oro? Sarà scontri sovraumani, duelli decisivi, che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte dovrà infine, tra tutti trionfare. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Sono i cavalieri dell'Ozzonia, quando nomi importanti sono grandi e forti eroi. Tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Sono i cavalieri dell'Ozzonia, quando nomi importanti sono grandi e forti eroi. Tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Ma solo uno alla fine potrà trionfare.